Tu proseguirai nella tribù degli accoppiato, scegliendo una compagna tra quelle ingrate della tua ex tribù, quindi dovrai scegliere una delle cicas che poco fa ti ha scaricata. Dovrai farmi il nome della ragazza con cui vuoi fare coppia e andare nella tribù degli accoppiato, ovviamente non potrai nominare Elena perché è proprio lei che ha fatto partire la catena, quindi pensaci bene perché da questo momento in poi tu giocherai fianco a fianco insieme alla ragazza che sceglierai, alla donna che sceglierai, quindi dovrai darmi un nome e una motivazione. Allora, gli accoppiati mi sembrano molto interessati a questo tuo nuovo arrivo. Sì, sì, non posso che sceglieri, è una che pulisce. Ora, mi stanno imboccando sulla scelta, loro sono tutte traditrici perché nessuna di loro ti ha scelta. Ma infatti anche persone che, tipo Pamela che è stata l'ultima, posso... Tu puoi nominare una delle cicas rimaste tranne Elena perché ha vinto. E non avrebbe senso. E comunque credo tu non l'avresti scelta. Chi scegli? Nathalie, Fiore, Cristina, Corinne o Pamela? Io scelgo Pamela. Pamela Camassa, sei in coppia con Claudia. Prego raggiudici pure. Grazie. 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 Grazie.